Un punto che smuove la classifica, un punto d'oro, un punto meritato, abbiamo giocato contro l'ennesima squadra strutturata per fare un campionato di alta classifica, come al solito è la quarta partita che non demeritiamo, purtroppo concretizziamo poco, anche oggi abbiamo avuto almeno due palle gol nitide, un tiro sul palo e uno sulla traversa, purtroppo è la terza partita senza gol e proprio per questo motivo non riusciamo a portare maggiori punti a cassa, però sono sempre più contento di come la squadra sta reggendo l'impatto a questo campionato e evidentemente abbiamo in classifica i punti che meritiamo, quattro punti su quattro partite significa quantomeno che nessuno ci mette sotto, ce la giochiamo con tutti, in promozione il livello è qualitativamente molto alto per cui basta un nulla per vincere o per perdere le partite, l'importante è tenerle in equilibrio, le sensazioni sono quelle che se la squadra continua così potrebbe non avere problemi per salvarsi, però ripeto siamo una matricola, dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo stare umili, non dobbiamo esaltarci mai, dobbiamo sempre dimostrare partita per partita che il campo lo teniamo bene, per cui io mi esterrei dal dare giudizi, prendiamoci quello che dice il campo e finora il campo ha detto che l'Atletico Scicli in promozione ci può stare.